Il trento di finale tra Bocadillos e Seleccione Albitro Mitico Tonino Ecco le due squadre disporsi in campo Ora vedremo il saluto alla platea Passo ora la Selecione Ricordiamo partita importantissima Valida per gli ottavi di finale Passo ora il Bocadillos di Mirone Ora andremo a vedere il sorteggio per la palla e il campo E frattempo cominciamo a fare la scelta, forza chi viene? Capitano del Bocadillos Cominciamo a fare la scelta Sei giù, sei giù Cominciamo a fare la scelta al campo, dai per favore Capitano della Selezione Scichitano D'accordo? Chi sceglie il campo, trova il fischio e sceglie il campo Quale campo signore? Bocadillos del campo La palla alla Selecione Bocca al lupo alle due squadre Ci vediamo dopo Primo tempo tra Bocadillos e Selecione Nel sedicesimo di finale O play-out del torneo Super 8 Cup Targato SK Partita inizia da pochissimi minuti Bocca al lupo alle due squadre 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.